Negli studi di TV Siti Rosario Riviecio, coordinatore cittadino di Azione, stamattina la presenza qui a Torre del Greco del coordinatore regionale Giuseppe Sommese, tante le tematiche messe in campo e in particolare rispetto alla sanità. Noi stiamo a dimostrare con questa presenza che la politica non deve essere presente soltanto durante i periodi elettorali e ribadire quelli che sono gli impegni verso la cittadinanza e in particolare verso i diritti alla cittadinanza, alla salute, ai livelli di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Per cui le priorità, le emergenze, le problematiche della gente noi dobbiamo farne nostre e la politica portarli a livelli sovraordinati. Sappiamo che questo territorio da anni si batte per avere una sanità pubblica, efficiente ed efficace. Sì, sono tanti anni di cui parliamo di queste problematiche ed è il momento di affrontarli. Con tutte le criticità la regione Campania viene da un commissariamento regionale che dura da tanti anni, ma quelli che sono in livelli essenziali di sanità, il pronto intervento, il pronto soccorso, garantire almeno la salvavita a queste persone, e questo lo dobbiamo garantire. È del nostro compito prioritario verso questa cittadinanza tutta. Ricordiamo anche che siamo in campagna elettorale, domenica e lunedì ci sarà il ballottaggio ed oggi pomeriggio la presenza del governatore della campagna, Vincenzo De Luca. Siamo al ballottaggio, abbiamo fatto una scelta morale, una scelta etica, una scelta che volti a garantire a questa cittadinanza e a questa città un governo solido, duraturo e che si è fatto di poche e poche azioni ma concrete. È una campagna elettorale difficile, coinvolgere le persone che non vanno a votare, coinvolgere la gente senza volto, senza voce, che questa è una battaglia di moto e dobbiamo tutti fare la nostra parte. Quali saranno le vostre richieste al presidente della regione Campania? Il diritto alla salute, il diritto alla cittadinanza e spendere su Torre del Ghego quello che è la valutazione del valore territoriale, turistico, economico, logistico ed infrastrutture di cui ha bisogno. La regione Campania lo può fare, il presidente De Luca lo può fare, ma non solo Torre del Ghego come città, ma come territorio alle falde del Vesuvio, della costa e di quindi del patrimonio che possiamo ancora esprimere e di un valore aggiunto che è tutto ancora da poter recuperare. Giuseppe Sommese, coordinatore regionale di azione, stamattina qui a Torre del Ghego si tirano anche le fila dopo questo primo turno di elezioni qui in città. Noi siamo molto soddisfatti del lavoro che innanzitutto i nostri coordinatori hanno messo in campo e tutti i nostri candidati. Abbiamo inteso sin dall'inizio affrontare una battaglia di coerenza, una battaglia etica, una battaglia di serietà. Gli elettori ci hanno dimostrato la loro vicinanza portando la nostra lista al 7%, risultando la terza lista nella coalizione, meglio anche di parecchi partiti. Questo dal senso della cifra di quello che è anche la volontà del popolo di Torre di premiare quelle che sono le realtà moderate di questa città. Noi siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo preso, del lavoro che abbiamo fatto, del risultato che abbiamo conseguito e siamo convinti che il nostro supporto anche nella fase di balottaggio sarà determinante per la vittoria del candidato sindaco Luigi Mennella. Un impegno che andrà avanti anche in vista di un importante appuntamento che vi vedrà protagonisti a giugno. Sì, a giugno, tra fine giugno e inizio luglio ne abbiamo programmato una convention tematica e politica ovviamente qui a Napoli, la città della scienza, tracciando un po' anche quello che è il nostro modo di intendere la politica, fatta prima di tutto sui programmi. Anche qui a Torre del Greco, in verità il nostro lavoro parte prima dall'organizzazione dei programmi, dalla rilevazione di quelle che sono le eventuali criticità del Paese e eventuali proposte anche da offrire come contributo ai programmi elettorali. La stessa cosa, la matrice di azione si fonda su questo, lo faremo a Napoli, la città della scienza, dove apriremo dei tavoli tematici aperti alla cittadinanza, aperti alle associazioni e alle parti politiche che potranno contribuire per poi fare sintesi di tutto questo lavoro e canalizzarlo poi nei canali giusti politici per provare a dare delle risposte ai territori.